Buonasera Alessio, la prima domanda è di Domenico Carella del Corriere al Mezzogiorno. Un inizio buono per te, perché con 5 reti sei il capocannoniere, il Foggia, l'attaccante più prolifico. Come valuti il tuo inizio di stagione a livello personale? Allora, intanto buonasera. A livello personale sono abbastanza contento. Sto entrando piano piano nella forma ottimale, quindi personalmente va abbastanza bene, ma sono soprattutto contento del cammino che stiamo intraprendendo nelle ultime partite con la squadra. Carmine Troisi di Telefoggia ti chiede se c'è più gioia per i due gol realizzati oggi o più amarezza per non aver portato a casa l'intera posta? C'è un po' di amarezza, perché oggi era una partita, per come la vedo io, sono due punti persi. Nonostante siamo stati molto bravi a reagire a entrambi gli svantaggi, però credo che potevamo e dovevamo portare i tre punti a casa. Che partita è stata quella di oggi, Alessio? Ma è stata una partita combattuta, una partita dove purtroppo siamo andati in svantaggio due volte, ma non abbiamo rinunciato a giocare, a provare quello che il mister ci chiede, che sappiamo fare e poi alla fine siamo riusciti a pareggiarla e secondo me con un pizzico di fortuna in più potevamo anche portare a casa il bottino pieno. Tiziano Enrichello di Teleblu dice che anche oggi è stata una prestazione ottimale che però non è bastata per vincere la partita. E cosa non ha funzionato secondo te? Ma secondo me purtroppo oggi abbiamo commesso degli errori che ci sono costati due gol e quindi andare due volte in svantaggio non è facile all'interno di una partita. Per quello siamo stati molto bravi a reagire e poi alla fine ci è mancata un po' di fortuna perché il colpo di testa di Germinio ha preso il palo e magari in un'altra situazione la palla può entrare. Chiudo con Alessandro Tosquez di Foggia Tutel il quale dice che finora hai avuto compagni di reparto con caratteristiche diverse tra di loro. Ti trovi meglio da seconda punta accanto ad un attaccante un po' più fisico oppure con una punta più rapida al tuo fianco? Ma i miei compagni non c'è differenza. Io mi trovo bene sia con un attaccante più statico che con uno più rapido. Ovviamente cambio il mio modo di giocare perché magari se c'è uno più statico faccio più l'attaccante e se invece c'è uno più rapido di profondità magari riesco ad abbassarmi di più e magari a imbucare di più la punta. Quindi mi trovo bene in entrambi i casi. Cambia solo il modo di interpretare il ruolo, la partita. Domenica, altra trasferta insidiosa sul campo della Cavese. Il Foggia deve andare per vincere? Il Foggia deve andare per fare la sua partita, concentrato, cattivo e determinato continuando su questa strada intrapresa dando continuità ai risultati positivi che stiamo facendo e alle prestazioni soprattutto. e poi se saremo bravi e fortunati porteremo a casa il risultato ma la base deve essere questa.